Robin Hood was born near the end of the 12th century. Robin Hood è nato verso la fine del XII secolo. Sempre nell'ottica dell'imparare ad imparare, analizziamo la frase da un punto di vista grammaticale. Robin Hood was born. Ricordiamoci che in inglese si usano quattro forme per esprimere il passato, ma noi in questa sede ne analizzeremo solo una, il simple past. Con il simple past si può esprimere sia il passato prossimo che il passato remoto in italiano. Come si forma il simple past con i verbi regolari? Nel caso della frase affermativa si usa il soggetto più verbo più ed, ed, id, in inglese ovviamente. I skipped. Interrogativa. Did più soggetto più infinito senza tu. Did she arrive? Negativa. Soggetto più did not più infinito senza tu. They didn't go. Interrogativa negativa. Interrogativa negativa. Did not più soggetto più infinito senza tu. Didn't you play? I skipped. Ho saltato. Saltai. Did she arrive? È arrivata? Arrivò? They didn't go. Non sono andati, non andarono. Didn't you play? Non hai giocato? Non giocasti? Near, che in genere in inglese significa vicino, presso, accanto, nel nostro caso può essere tradotto con verso. Robin Hood è nato verso la fine la fine del XII secolo. Nel nostro caso il 12 va letto come un numero ordinale. non è vero? Non è vero. 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 Non